I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 5 tonnellate di sigarette di contrabbando trovate in un camion e in un furgone fermati a Palermo in via Santa Maria di Gesù. Sono stati arrestati i due conducenti, un 31enne di Salerno e un 45enne palermitano. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno notato in un piazzale in via Santa Maria di Gesù alcune persone che stavano scaricando dei pacchi da un auto articolato a un furgone. Grazie al fiuto del cane Arca specializzato nel contrasto al contrabbando, i finanzieri hanno trovato nell'auto articolato 18.000 stecche di sigarette di vari marchi. I tabacchi, ovviamente sequestrati, avrebbero fruttato al dettaglio ricavi per circa 800.000 euro. I due conducenti, come detto, sono stati arrestati. Il GIP ha poi disposto il carcere per il 45enne palermitano e i domiciliari per il 31enne di Salerno.